E adesso dedichiamoci ai Comites, visto che a noi piace esagerare, vi presentiamo il nuovo format a loro dedicati, la voce dei Comites. E oggi Gigi ce ne andiamo in Austria. Ma è che ci sei stato già un po' di tempo fa, qualche giorno fa, vero? Esatto, esatto, sono stato a Vienna e ho incontrato proprio gli amici del Comites. E ci colleghiamo con il presidente Comites Austria, Paolo Manganiello. Ciao Paolo! Ciao Mike, ciao Luigi, grazie per averci invitato in trasmissione e un saluto a tutti gli spettatori. Ciao Paolo, presentaci un po' il gruppo Comites. Ufficialmente il nostro nome è Comites Vienna, ma come potete vedere dai nostri canali di comunicazione, abbiamo deciso fin dall'inizio di rinominarci in Comites Austria, proprio per sottolineare che rappresentiamo tutti gli italiani in questo paese che ci ospita. L'elezione del nostro comitato nel 2021 è stata una ripartenza. Quello precedente era infatti stato sciolto, ma in poco tempo siamo riusciti a diventare una importante realtà e un punto di riferimento per la comunità italiana in Austria. Siamo un gruppo giovane, proveniente da tutta Italia e con esperienze in vari settori, che sta riuscendo a realizzare tantissimi progetti belli e soprattutto utili per la nostra comunità. Quali sono i vostri obiettivi nel breve-medio termine? Al momento stiamo lavorando la seconda edizione del rapporto sulla comunità italiana in Austria, una ricerca che aiuta a delineare il volto dei connazionali in questo paese e a evidenziare le loro esigenze. Questo è basato su un questionario che verrà lanciato nelle prossime settimane tramite i nostri canali. Un tema su cui stiamo anche lavorando è quello del rapporto con le istituzioni austriache, affinché la nostra comunità, cresciuta moltissimo negli ultimi anni, sia riconosciuta a dovere. Per dopo l'estate abbiamo inoltre in programma un importante progetto sulla psicologia d'espatrio, con una serie di incontri a tema che coinvolgeranno esperti del settore. Continueremo inoltre come sempre con le nostre attività di informazione e gli eventi di incontro per i connazionali che sempre ottengono un ottimo riscontro. Gli obiettivi a medio termine sono quelli che ci siamo posti fin dall'inizio del nostro mandato, rappresentare la comunità, informare i connazionali e aiutarli nell'integrazione con progetti che siano di supporto per la nostra vita in Austria. Ci scatti una fotografia della comunità italiana a Vienna? La comunità italiana a Vienna, come anche in Austria, sta crescendo di anno in anno. Qui nella capitale i connazionali sono ormai quasi 15.000 e in tutta l'Austria si supererà la soglia di 50.000 italiani residenti, un numero che praticamente ha raddoppiato negli ultimi 10 anni. Si tratta di una comunità giovane, con un buon livello di istruzione, ampia infatti la presenza di ricercatori universitari e dove molti hanno anche già una conoscenza, almeno di base, del tedesco. Numerose sono le famiglie con bambini che si spostano qui, che infatti è anche uno dei focus del nostro comitato. Una comunità quindi in crescita e evoluzione, che il nostro Comites Austria cerca di supportare nel migliore dei modi con le iniziative che proponiamo. Grazie mille Paolo, mandiamo un saluto a te e a tutti gli italiani in Austria, tra cui mia sorella Esther, permettimelo Gigi. Mi unisco al saluto.